Siete pronti? La corrida è alle porte! Vi aspettiamo domani sera in Piazza San Marco alle ore 20.30 in onore dei festeggiamenti di San Giovanni Battista. Pulitevi di fischieri, di campani e quant'altro. Sarà una serata ricca di sorprese e di ospiti speciali. Un evento diventato un incontro fisso e mancato. Domani sera ci sono io, dove sono io, non ci siamo proprio. Domani sera in Piazza San Marco alle ore 20.30 in onore dei festeggiamenti di San Giovanni Battista.